azione bella idea eh ciao mattia è stato in silenzio fino adesso il chiesone di chiuso è un po' che il nostro cliente non ci viene è strano mi pareva di aver capito che comunque si riprendesse il cuore eh bisogna che il chiesone di chiuso io prenderei questa come buona guarda mi sei scopita presto l'anello prendiate le camera prendo una torcia si sa mai non c'è te di camera eh sono te di camera ah ok scena 10-3 10 pensavo che dai c'hanno in voi a casa oh scusa perchè c'ho le bocche c'ho le bocche in testa adesso amici vi faremo vedere come si fa le vite a una scuola vedi qui lascia andai faccio così no tu guarda proprio fa una fanda no no si sta vai su vai su adesso la spezziamo ne escono altre mille piccoline to do 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 ahhh ehi è saltata una videocamera quale? primo piano in ristrutturazione ahhh 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 Questo è bello. Possiamo fare una pausa bagno? No, eh. Aspetta, mi è uscito un sorriso un po' di time che c'è stavola. Non mi è piaciuta. Facci il provino. Sono Michel Unziker. Fa cantare e ballare. Il salotto mi sembra sotto Ponte Otto. Quindi potremmo semplicemente mettere che non vi deve essere. No, il salotto. Il salotto. Il salotto. Abbiamo un paio di sferi. Sono da qua. Concordo? Sì. No, sì. Sì, sì. 11,3. Allora come posizioniamo la strumenta? Vedere già. 11,4. Ecco. Sono delle... Allora posso... Poi dai, così bene. Andiamo fino a 10. Bene, come posizioniamo? Aspetta. Dai! Posizioniamo. Il salotto mi sembra sotto Ponte Otto. Potremmo semplicemente mettere... Non ho detto a madre, eh? Non ho sentito un mentemente. Un mentemente. Tutto ok? Sì, sì. Qui è pronto? Se vuoi... Cos'è? Non ho sentito un tono, pensavo che stava accadendo. Tutto ok? Speri? No, non sta bene. No. Pronti? Aspetta, c'è un risalto dietro di qualcuno. No, scusa. Sì, quando lo metti, ti fai cose... Sì. Ti impendi. Sì, forse è un po' esagerato. Vieni, vieni. Vieni. Mi piace questo salmone. Avete già più l'idea per arredarlo? Non avevo dubbi. Ha sbaglio o ha detto salmone? Dai. Beh, sì, mi piace questo salmone. No, aspetta. Io non avevo dubbi. Devi dire quello che deve facciarsi per prima. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Sì, ok. Avete più l'idea per arredarlo? Non avevo dubbi. Ah, ma non è così. E no, è tanto che è dappertutto. Bello. Che cosa ci manca? E' grinch. E' io, sono i grinch. Sono tutto grinchioso. Ehi, ehi. 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 questa cosa no eh no 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 scusate non posso essermelo immaginato un bambino hai detto sembrava il piatto di un bambino come questo molto molto simile a questo perché tu c'erano i cali di cali di cali gli abitanti dell'ohaio quando cadono dicono oh aia eh ma non sono più pobre se ne freddo i biscotti sono arrivati qui cambia qualcosa io verifico le camere mi fai tutto quali sono le problematiche degli attori signor regista la r e la rotazione verso il senso orario verso l'est la rotazione verso il senso orario la rotazione verso il senso orario la rotazione verso il senso orario mi sembra un po' esagerato scusami eh ciao no sei troppo in là il busto gia' esagerato e ben Le bende! Le bende! Guardate il cameraman! Guardate... Crepuscolo! Guarda perché era bello! Eh non si è aperto, mi sento la cosa! Oh, grazie! Questa è già tutta la signora, eh? Questa è maglia! Le bende! Le bende! dobbiamo stare calmi ragazzi dobbiamo stare calmi dobbiamo cercare di ragionare ma non cosa fa male fa male cane anche io avevo sentito un bambino nel corridoio quando avevo visto se quando dobbiamo capire quanti sono voglia che sono almeno due io ho sentito anch'io un bambino e ci hai sentito visto mi sono incastrato davide fa il movimento e l'altro davide giustamente questa simulazione perfetta poi ti giri ok siete credibilissimi ok e poi no solo io Ah, ok Ah, no, ah Ah, no, aspetta, non ho capito Andiamo Azione No, per me con i saltelli graziatissimi che mi piacciono Prezzo 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 Dello sgabuzzino, questa volta era violenta Il ragazzo Che cazzo è successo? Ho avuto un'altra visione Dello sgabuzzino Per farmi dire dove Ma dove? Ah perchè devi dirlo dove? Però dico qualcosa Gli iperventilazioni Tra un po' che cado dalle scarpe Scusate Ho avuto un'altra visione Aspetta, ho una vita di merda Ho avuto un'altra visione Scoppia la testa Voglio fuori la camera Che cazzo stai facendo che sento Bip 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 bip? Forse stavo qua Sì, non ho capito perchè E' che fatto Il pendolo Che c'è? Ma com'è possibile? Abbiamo incontrato? Sì, abbiamo incontrato E' il tuo cavolo E' il tuo cavolo Sentite, se non troviamo nulla qua dentro No? Se non troviamo nulla fuori Se non troviamo nulla fuori Mi sono distratto perchè ho lanciato il telefono dentro E ragazzi Ci sono almeno in due Sicuramente O forse in tre Non lo so Mi sa che sta diventando un oggetto Scusate Sono dei nanti orate Ce l'hanno uno Scusate Scusate O poi te ci fai anche noi Già Via Cacciatori delle Alpi 12 Alters 12 Alters 12 Davide Scusate Ne ho esitazione No Scusate 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 Guarda, servita Scusate 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 Allora Adesso Io batto le mani Batto le mani E voi partite Eh E dalla partite Quando vuoi Fa E fra la tua madre Ci ha detto Mi sono spaventato Cazzo Ah Merda Cosa è successo Ho già avuto il primo spavento Uuuuuh Quello Ma Ma Semorerebbe Avete mai sperimentato qualcosa del genere? Sì, samba! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo!